Molise a calci in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo uscita a Civitanova del Sannio Buonasera per la puntata pre-natalizia di Molise a calci l'ultima puntata tra l'altro anche dell'anno solare di questo 2016 coincidente con l'ultima di andata in Serie D e in eccellenza parleremo anche del calcio A5 di Serie B un argomento molto ricorrente nelle nostre trasmissioni proprio perché è uno sport che sta prendendo piede in maniera non indifferente nella nostra regione e quindi è giusto dedicare abbondante spazio proprio al calcio A5 allora il campo basso facendo un rapido sommario ha perso 4-0 sul campo del Pesaro una sconfitta pronosticabile ma si brancola sempre nel buio a livello societario nel senso che il silenzio stampa impedisce di saperne qualcosa di più e le notizie che provengono anche dal parco giocatori attuale non è che sono delle più positive perché sono arrivati dei giocatori ma altri se ne sono andati e non è escluso che vadano via altri l'agnone ha pareggiato 0-0 contro la vastese l'eccellenza vede una protagonista ancora più consolidata ed è il macchia di Serna che va a più 5 sul gruppetto delle seconde che seguono che sono appunto a 31 allora non mi perdo in altre chiacchiere diciamo così perché mi appresso a presentare subito Tabita Morgese la nostra compagna di avventura buonasera buonasera a te Gianni e buonasera anche a voi cari amici telespettatori benvenuti a questa nuova e ricca puntata di Molise a Calci prima di passare alla presentazione degli ospiti vi ricordo che domani sarà presentato il calendario 2017 della redazione sportiva di Tele Molise a partire dalle ore 18 presso il ristorante Coriolis ci sarà la conferenza stampa per illustrare gli scatti protagonisti nei 12 mesi del nuovo anno la distribuzione è gratuita nei prossimi giorni sarà possibile ritirare le copie presso le tre sedi della nostra emittante a Campobasso, Isarnia e Termoli e naturalmente colgo l'occasione di ringraziare anche questa sera Pinella Graziano della boutique Smeralda che mi ha offerto anche abiti sempre super eleganti adatti per il Natale grazie Pinella e per chi volesse visitare il negozio la boutique Smeralda si trova a Piazza Pepe a Campobasso perfetto Tabita allora sì mi hai tolto le parole di bocca perché stavo dicendo che sei particolarmente elegante anche in questa puntata pre-natalizia non so se hai portato un cappello da Babbo Natale non ti preoccupare aspetta tra poco ti ritroverai con un cappello ecco non avevo dubbi su questo comunque possiamo procedere intanto alla puntata con la presentazione degli ospiti questa sera abbiamo il piacere di ospitare Roberto Quaranta attaccante del Cupello buonasera buonasera a tutti e grazie per l'invito e Massimiliano Di Cuia dirigente della Ciamina buonasera grazie anche a voi per l'invito buonasera ad entrambi allora hai detto attaccante del Cupello riferito a Roberto fresco attaccante del Cupello perché da poco si è verificato il divorzio tuo con il San Salvo un legame che si protraeva da quanto tempo Roberto? è ormai quattro anni quattro anni e si è andato via insieme ad un'altra schiera di Molisani tra cui l'allenatore Franco Longo poi Marra Pifano credo di no Pifano è rimasto Pifano è rimasto e buon anno è andato via possiamo motivare questo divorzio oppure guardiamo avanti? è finito un amore che durava da quattro anni niente poi ogni tanto si devono prendere delle decisioni diciamo anche se drastiche insomma purtroppo è andata così va bene Tabita meglio che finisce un amore calcistico e non che finisce un amore vero o no? Roberto ci ha fornito questo assist non sto qui a dire particolari però con il copello adesso come ti trovi? è molto bene diciamo è un ambiente è un ambiente molto bello mi trovo bene con i ragazzi il presidente è molto giovane una società molto seria spero di trovarmi ancora meglio mentre stiamo qui a celebrare l'amore tra Domenico Scarnata Massimiliano di Cui e la Chaminade per un amore che finisce un altro che inizia Massimiliano e prosegue questo matrimonio direi bene questo amore sì questo è un amore come l'hai definito tu mi viene un po' da ridere però va bene alla fine se vogliamo cambiare la parola amore con passione forse credo che sia la cosa più giusta da dire la cosa migliore si dà a vita e niente c'è prima di tutto una grande passione dopodiché voglio cogliere al balzo quello che ha detto Roberto prima c'è voglia di freschezza di gioventù quindi di portare altri tipi di progetti credere veramente in un progetto a lungo termine per questa Chaminade e tu sai Gianni che ci segui pure da vicino che cosa abbiamo portato in questa Chaminade ovviamente questo è il primo anno e quindi non possiamo pretendere tutto e subito però penso che già dal primo anno come hanno potuto notare tutti quando abbiamo dato un cambiamento a questa società sabato scorso 4 a 4 con il Ruvo soddisfatto o meno di questo pareggio? sì secondo me un bicchiere mezzo vuoto perché sì Gianni perché la partita l'abbiamo approcciata bene mentre altre volte avevamo avuto problemi di approccio alla partita abbiamo subito portato in vantaggio 2 a 0 stavamo controllando la partita poi un calo inaspettato ma più che altro di concentrazione non altri tipi di cali anche perché abbiamo una squadra pure abbastanza rimaneggiata per degli infortuni la stagione è stata comunque questa prima parte di stagione il giro di Boa comunque è stato stressante per tutti i giocatori però comunque eravamo 2 a 0 questa partita dopodiché il Ruvo è venuto fuori ha pareggiato la partita addirittura è andato 4 a 2 in vantaggio e poi il solito cuore e la solita passione dello sturzo della Chaminade siamo riusciti a guandare questo risultato 4 a 4 e comunque ci va stretto ci va stretto perché la partita si era messa in un modo positivo per noi e dovevamo vingere la partita almeno come la penso io io ero presente ma ero impallato da tante persone perché diciamo sì quasi 300 però sono davvero strettissime le persone quindi si vede anche male per chi è praticamente nella prima fila in piedi allo sturzo ma questo depone sicuramente a favore di chi questo entusiasmo lo ha ricreato in collaborazione con la precedente e l'attuale proprietà dirigenza della Chaminade vedremo tra l'altro ti preannuncio una moviola improvvisata su Chaminade Ruvo perché qualche protesta l'avete fatta primo contributo primo contributo relativo a Pesaro Campobasso 4 a 0 Tabita con un secondo tempo davvero bruttissimo da parte del Campobasso il Campobasso ovviamente continua con il silenzio stampo e abbiamo sentito nel post gara Davide Sassarini allenatore della Vispesaro vediamo diciamo che fino allo 0 a 0 avevate avuto qualche difficoltà a sbloccare il punteggio perché il Campobasso era davvero molto chiuso poi sul calcio di punizione siete riusciti a sbloccare il secondo tempo è stato senza storia obiettivamente sì la mia squadra ha fatto molto bene abbiamo fatto molto bene è un periodo che stiamo che siamo continuamente in crescita e che stiamo facendo veramente bene e ho pochissimo da appuntare alla mia squadra sì direi dopo questa partita davvero pochissimo da appuntare potete legittimamente ambire ecco perché nascondere le ambizioni di vertice non c'è da nascondere perché c'è davvero grande bagarre per il primo posto e soprattutto la classifica è cortissima ci sono cinque squadre credo in due o tre punti ma nessuno si nasconde vogliamo soltare la testa a giugna e vedere dove siamo arrivati questo è è quello che vogliamo fare nel senso mi hanno chiesto altri all'inizio mi hanno chiesto di arrivare nelle prime cinque stiamo lì a giocarcela e chiaro non ci torniamo indietro però gli ingredienti proprio per puntare al vertice ci sono compreso il pubblico numeroso caloroso insomma i requisiti per provare un girone di ritorno ad altri livelli ci sono assolutamente assolutamente quando c'è da prendere nel calcio bisogna prendere perché poi i programmi non è sempre semplice poi mantenerli quindi nel caso fossimo in testa o vicini alla testa non ci tireremo certamente indietro le chiedo riavvolgendo il nastro della partita sullo 0 a 0 quando il campo basso era chiuso il problema era forse anche quel tocco in più anche da parte dello stesso Ridolfi ma no il nostro modo di giocare è questo il nostro modo di giocare è questo tenere la palla giocare sull'errore nostro andarla aggredire immediatamente riaverla e rigiocare perché così fai che stanchi poi gli avversari ne ho visto Fioretti che secondo me è un ottimo attaccante ma ha corso tantissimo non aveva poi non c'era da andare a ripartire non aveva emblematiche le parole molto interessanti dell'allenatore del Pesaro che adesso è terzo in classifica e approfittato anche dello scivolone del San Nicolò a Civita Nova Marche adesso campione d'inverno come potete vedere ringrazio i nostri tecnici Donato Mignogna e Gianluca Praetano la fermana chiuda 35 il girone di andata campione d'inverno San Nicolò 34 Vastese Pesaro 33 Matelica 31 pensate il Matelica sembrava non avesse avversari adesso addirittura è quinto in classifica quindi si gioca un posto per 5 squadre sarà un bellissimo girone di ritorno al nostro modesto modo di vedere la vittoria della Re Canatese contro il Romagna centro quindi Re Canatese a 15 ha accorciato anche le parti basse della classifica il capobasso si colloca proprio in mezzo da dire una cosa e poi faremo parlare i nostri ospiti ieri c'è stata la diretta di Telemolise durante la partita nel corso della trasmissione a tutto campo c'è stata la fine della partita una diretta avete visto praticamente da uno spazio antistante gli spogliatoi ve ne sarete potuti rendere conto uscivano ed entravano i giocatori che avevano fatto la doccia e dietro di me che parlavo con la collaborazione tecnica del nostro Francesco Di Rienzo c'erano 4-5 ma di più una decina di giornalisti ammirati della nostra diretta da Pesaro con una squadra insomma che non è che stia andando benissimo con una società in silenzio stampa in diretta da Pesaro cioè se noi andassimo domani a Canicattì faremmo la diretta da Canicattì questo va scritto al merito della struttura dell'editore e mentre facevamo la diretta i ragazzi del Campobasso in silenzio stampa parlavano e uno si è fatto scappare con un membro della nostra truppa esattamente Alessandro Tini si è fatto scappare ma Telemolise sta sempre in mezzo sì Tini Telemolise sta sempre in mezzo questa è la risposta che ti possiamo dare e magari non intervisteremo più te perché evidentemente ti dà fastidio la nostra presenza che probabilmente sei stato abituato a chissà quali palcoscenici dalla squadra dalla quale provieni questo è il messaggio ad Alessandro Tini centrocampista del Campobasso torna Roberto scusa voglio rifiutare un attimo prego calmati un attimo no no sono tranquillo sono tranquillo sono tranquillo scherzo Gianni no dicevo ognuno il suo lavoro il ragazzo è un'uscita un po' sgradevole un po' sgradevole però rimane confinata nel post partita volevo mettere più in evidenza non bisogna darle tanto peso perché poi i complimenti dei colleghi di Pesaro Massimiliano voglio aprire una parentesi su questa cosa qua guardami anche due la cosa particolare che forse devono pure capire che ci sono squadre che la vogliono in mezzo delle molise quindi non vedo come si può pensare al contrario anche perché poi guarda che stiamo in un altro calcio cioè qua pensiamo che ancora che stiamo a 20 anni fa il calcio che lo conoscevano solo poche persone ma guarda io ho non so se sai Gianni anche l'altra metà del cuore di Matera primo in classifica con il legge primo in classifica e te l'avevo pronosticato un po' di tempo fa ho tutti i cugini là abbiamo casa e tutto quindi mio padre è di Matera l'emittenza Matera no ti posso far capire una cosa voglio collegare questo discorso di Telemolise lì con Lumella si è vero c'è i soldi tutto quello ha investito tutto quello che vuoi però comunque ci ha provato più anni e non è riuscito a programmare la squadra che ha quest'anno quest'anno una delle prime cose che hanno fatto è stabilire il discorso telecomunicazioni il discorso comunicazione il discorso marketing per far capire che anche quando ci sono i soldi su una piazza non è detto che poi fai una squadra che vingi il campionato lo devi vingere per forza quindi loro la prima cosa che hanno tenuto a precisare il reparto comunicazione hanno preso una signora ora non mi ricordo bene il nome e ci hanno puntato tantissimo hanno iniziato con manifestazioni da questa no forse prima di quest'estate da primavera per far capire come è importante noi sulla Ciaminade ci stiamo ma che stiamo scherzando i giocatori stessi rimarrebbero completamente anonimi sia un altro ma comunque è il discorso che veramente si serve comunicazione serve far capire all'altra parte che il pubblico delle grandi dei grandi numeri a far capire che cosa si fa che cosa non si fa sicuramente non credo serva il silenzio stampa perché il tifo lo vediamo io lo vedo assurdo quindi chi chiede ma Liberti cosa è venuto a fare Gianni ma che intenzioni ha Liberti ma secondo te non lo sappiamo nemmeno noi perché se c'è un silenzio stampa certo è che bisognerebbe chiederlo anche a chi ha mediato è stato tra i principali mediatori per la venuta all'avvento di Liberti a Campobasso è stata una piccola parentesi Massimiliano volevi aggiungere tu quando ti senti non voluto a qualche parte vieni alla Ciaminade non vi preoccupare in diretta se non mi sentisse se non mi dovessero volere a Campobasso visto quello che ha detto Tini ecco un giorno se sentirò le parole di Tini io verrò alla Ciaminade mi vorrete la Ciaminade la volete di mezzo Telemolise perfetto ok ma tu devi capire una cosa anche voi senza stiamo scherzando ci sono soggetti e commenti che è bene non ascoltare va bene lo volevamo solo riportare ecco perché c'è un silenzio stampa ma noi comunque continuiamo ad andare facciamo dirette e faremo dirette quindi saremo sempre più in mezzo non è una risposta alla provocazione è solo per dire che se c'è il Campobasso è chiaro che lo si deve anche alla TV che ne dà conto e ne dà risalto quotidianamente allora immagini di Ciaminade Ruvo abbiamo in scaletta perché è successa una protesta ecco non ricordo esattamente la sequenza del gol però è un'occasione credo di un gol del Ruvo c'è una protesta vostra per un fallo su Bagnoli Massimiliano lo rivediamo prima in play quindi a velocità normale se possibile mi riferisco alla nostra regia e poi lo rivediamo al rallentatore qui c'è la parata di Sari poi vedete il tiro del giocatore del Ruvo il gol con la parata tentata lo rivediamo al rallentatore per capire secondo te in maniera oggettiva se c'era un fallo su Bagnoli ne è arrivato in casa vostra possiamo rivedere sempre andiamo c'è l'appoggio con il petto il giocatore che si allunga il pallone qui c'è fallo o no su Fabrizio Bagnoli Massimiliano io ero nella stessa posizione da dove è la telecamera e avevo notato questa cosa qui perché non eravamo tra virgolette impallati da qualcuno anche perché si vede nettamente il pallone comunque non viene deviato si vede che il pallone continua la sua corsa naturale mentre il giocatore del Ruvo va nettamente sulle gambe di Fabrizio quindi le proteste non erano infondate diciamo così erano fondate erano fondate allora Roberto Quaranta penso che quelle entrate nel calcetto comunque non si possono fare diciamo da cioè quelle entrate non le ho mai se scivolate non penso che ma prende le gambe di Fabrizio Bagnoli sì sì comunque il fallo c'è il fallo c'è perché poi non tocca prima la palla quindi non anticipa la Bagnoli quindi a prescindere ripeto secondo me l'intervento proprio che è un intervento che a calcetto non si può fare almeno penso poi non so sì è un po' scomposto è scomposto però insomma lo abbiamo selezionato anche perché da lì è scaturito credo il gol del 2 a 2 sì ecco ricordo il 2 a 2 Tabita che cosa dici a proposito è da lontano eccolo qui fallo o meno su Bagnoli secondo me si fallo allora rivediamolo l'ultima volta Tabita scioglie qualsiasi dubbio siete bene però pare che non la tocchi la palla qui vedete Bagnoli e il giocatore Bagnoli rimane a terra rimarrà ancora a terra dolorante il tiro del giocatore ecco questa l'ha seguita Luigi quindi ne so un po' di meno e gol comunque è stato convalidato ma tante proteste Chaminade abbiamo visto questa una cosa seria una cosa non meno seria però divertente l'ha fatta chi? Michelino Marro dopo il gol dell'1 a 0 selfie tra Pescolla Marro e Bagnoli vuoi commentare Massimiliano? ti svelo una cosa che non puoi sapere di chi è il cellulare di Francesco Ialenti allora no ma la cosa bella di tutto di quello selfie che poi ieri sera siamo stati a cena con la squadra e tutto che Michele Michelino non riusciva a fare il selfie perché intanto Francesco aveva impostato la telecamera come panoramica e allora stavano tutti lì a provare a fare il selfie poi non lo so se veramente è riuscito questo selfie o no però è una cosa simpatica che comunque fa Roberto ha potuto imitare chi? Totti al derby? ma allora scusate Michele viene un po' da un infortunio un po' lungo allora ci teneva ci teneva a giocare il derby non ha potuto giocare un secondo del derby e quindi stava un po' ribolliva Michele ho notato questo atteggiamento di Michele Marro penso che anche Roberto abbia fatto qualche selfie sì però non l'ho spogliato io è vero li abbiamo visti ma se tu avessi in mente di farlo durante la partita a chi daresti il cellulare in panchina in panchina no però questa idea non l'abbandoni del selfie durante la partita forse calciacinua è un po' più facile c'è il pubblico più vicino Francesco Jalenti poi spesso si sporge e quindi ha ceduto e poi vabbè e poi lo rivedremo questo selfie evidentemente alla Moviola a proposito hai anticipato Massimiliano prego da vita vediamo il primo blocco della Moviola a cura del direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con Carburanti e lubrificanti Paglione Carburanti agricoli e per autotrazione Lubrificanti mobile Kuwait Oli motore Oli idraulici Oli per trasmissione Cambi e differenziali Ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campopasso Ripalimosani Carburanti e lubrificanti Paglione Dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore Con le immagini siamo a Pesaro esattamente 22 secondi dall'inizio della partita quindi proprio azione fulminia della Vis qui è tedesco in possesso di palla qui la Vis Pesaro ha chiesto un calcio di rigore il passaggio è per Ridolfi seguiamo il contatto con Palumbo l'arbitro il signor Tucci di Ostia non ha concesso nulla torniamo un attimo dietro con il nostro regista Donato Mignogna perché vedete che quando Ridolfi va praticamente a toccare il pallone Palumbo colpisce nettamente i piedi del giocatore in maglia bianco-rossa qui a nostro avviso c'erano tutti gli estremi per un calcio di rigore che invece il signor Tucci di Ostia non ha concesso altra protesta del Pesaro al sesto minuto sempre del primo tempo c'è questo cross di Mureno vedete a centro area cade praticamente Costantino alle sue spalle c'è Esposito però ecco qui si vedono i due giocatori ecco andiamo un attimo piano perché si vede proprio che il giocatore in maglia bianco-rossa scivola vedete con il piede sinistro gli manca praticamente l'appoggio sotto il piede evidentemente ha preso una zolla un po' infangata fatto sta che scivola quindi non c'è assolutamente nulla l'intervento di Esposito era assolutamente regolare e qui ha fatto bene l'arbitro a lasciar proseguire trentesimo del secondo tempo quarto gol della vista andiamo piano ecco perché questo che lancia la palla in avanti è Ridolfi andiamo dietro un attimo perché vedete quando Ridolfi tocca il pallone il giocatore davanti a lui del campo basso si tratta si dovrebbe trattare di Esposito praticamente è almeno tre metri tre metri e mezzo più dietro vedete Ridolfi che lancia il pallone in velocità si beve completamente i giocatori del campo basso vedete cerca anche di prenderlo ma non ci riesce sull'uscita del portiere Hopp lo evita e poi da posizione defilata va ad insaccare è davvero incredibile questi erano gol che si facevano veramente nelle formazioni giovanili tanti anni fa il campo basso in serie D è ancora capace di buscare un gol del genere quarantottesimo del secondo tempo l'unica opportunità per il campo basso è molto testardo D'Aversa vedete che entra in aria respinge il portiere Stefanelli D'Aversa ragazzo molisano lo ribadiamo e ci teniamo a dirlo allora D'Aversa effettua una bella rovesciata con il sinistro che va solo per sfortuna a non concludere la sua traiettoria in rete perché vedete traversa piena colpita da D'Aversa con una mezza rovesciata davvero molto bella poi arriva Martinello anche questo un ragazzo arrivato da poco nel campo basso mentre D'Aversa era anche l'anno scorso nella compagine Juniores il tiro di Martinello viene ribattuto sulla linea da Rossoni questa è stata l'unica opportunità del campo basso in 90 minuti anzi in 93 minuti e ci sembra davvero poco allora diciamo che ci sarà la ripresa delle ostilità campo basso Pineto e Romagna centro Olimpia Agnonese allora Roberto Quaranta c'era il calcio di rigore per il Pesaro allora due ne ha chiesti ricapitoliamo uno dopo un minuto dall'inizio della ripresa il primo sì sicuramente sì c'è perché il portiere almeno penso tocca assolutamente le gambe dell'attaccante l'attaccante sposta palla rigore nettissimo il secondo secondo no non ci sono gli estremi c'è un contatto sì ma niente di importante massimiliano di cuia faccio proprio un copio in golla delle parole di Roberto il primo è evidente non si può dire allora se fai un copio in golla ti chiedo sul quarto gol perché non ci piacciono i copio in golla il quarto gol l'autolancio di Ridolfi è un po' strana come è posizionata la difesa e soprattutto il difensore centrale in quel caso il difensore centrale non ho capito come stava posizionato effettivamente è un po' assurdo come gol nel senso non so se derivava te l'ho chiesto pure prima da un calcio d'angolo ad un'azione perché forse potrebbe essere una preventiva non lo so però comunque è un po' strano come prendere gol del genere anche perché un giocatore solo contro quattro se non sbaglio difesa quasi schierata è un problema di distanza è un problema di veramente eppure è difficile commentare quando i gol diciamo che è un problema il difensore secondo me ha sbagliato ad affrontare troppo col corpo dritto insomma l'attaccante però sicuramente se era sul 3 a 0 si vede scarsa concentrazione fermo restando che non si può prendere un gol così l'autolancio allora prima della pubblicità dico che i nostri ospiti sono dotati di cappellino da Babbo Natale fornito dalla nostra tabita possiamo inquadrarli così ci si può rendere conto e lo indesseranno evidentemente dopo la pubblicità io mi sono rifiutato di indossarlo sono comunque in clima natalizio con la cravatta però Gianni o tutti o nessuno o tutti o nessuno va bene allora facciamo una piccola sosta una piccola pausa pubblicitaria ci vediamo tra poco con gli altri servizi di eccellenza allora eccoci in studio dopo la pausa pubblicitaria parleremo del campionato di eccellenza i nostri ospiti ecco approfittando del clima natalizio goliardico stanno indossando il cappellino da Babbo Natale compreso la nostra tabita io rimango immune da questo vestiario però ripeto non Gianni ci ha detto che è un indumento nascosto di rosso quindi no è un indumento evidente cioè la cravatta quindi nascosto lo lasciamo nascosto facciamo ridere un po' i miei bimbi dai la mia domanda è questa rimarrete così per il resto della trazione è un po' stretto no no io pure alla prossima partita lasciamo in alto se vedete le polise però adesso lo tengo qui però loro indosserai dopo allora abbiamo fatto un po' il change Gianni così una puntata un po' colorata vedo il tuo cappellino un po' più come dire pronunciato degli altri comunque sul calcio a 5 abbiamo detto il progetto Chaminade che va avanti dopo un inizio negativo Massimiliano avete rialzato la testa bene sì un inizio negativo dettato anche dal calendario però abbiamo avuto se vediamo la classifica ora le prime 5 praticamente come le prime 5 partite anche se poi forse qualche partita di questa specialmente la prima con il Barletta alla fine è stato molto demerito nostro ma si poteva fare molto meglio pensando alla squadra come gioca ora poi abbiamo iniziato a fare la prima vittoria è un pareggio una vittoria fuori casa importantissima e quindi la squadra ha iniziato anche perché pure il tipo di preparazione che avevano avevano preparazione atletica che avevano fatto quindi ci ha aiutato un pochino e poi lo splendido pubblico Gianni tu ne puoi essere testimone che ci segui è qualcosa di impressionante cioè veramente mi sento pure in difficoltà perché molte persone mi ricollego di nuovo al discorso della diretta mi chiedono ma ci sta in televisione la partita perché non riesco a venire allo struzzo vengo 5 minuti dopo e non riesco a entrare noi vorremmo far entrare tutti vediamo che succede vediamo se questo progetto potrà continuare se ci sta pure in progetto qualche altro cosa di più importante ma è facilmente intuibile una cosa al volo Roberto prima di allora volevo sapere le condizioni di Pascale e Oriente allora Oriente e Pascale Pascale comunque ha un infortunio dovuto sarà uno stiramento da quello che abbiamo capito quindi non sarà facile recuperarlo anche durante le feste natalizie Oriente invece è un infortunio che ha avuto anche l'anno scorso tale e quale stesso posto stesso sono due assenze importanti per noi allora Roberto velocemente perché andiamo col primo contributo di eccellenza volevo solo aggiungere a questo fatto che stavo dicendo della sciaminate che secondo me stanno ricreando un entusiasmo che manca un po' in questa città verso il calcio soprattutto verso il Campobasso che è la prima squadra della città e secondo me bisogna rimettersi un po' tutti insieme qui in Molise al Campobasso e ricreare un po' quell'entusiasmo riprenderci la squadra e la città perché non so secondo me è stata questa squadra questa città è stata contaminata un po' da troppe persone da fuori che non hanno che non amano questa città e questa squadra quindi secondo me stanno ricreando quell'entusiasmo che manca e sono contento per loro stai testimoniando un crescente disinteresse che possiamo certificare e intorno al Campobasso ecco ricordiamo la famosa frase di Perrucci 67 paganti giusto Roberto Tabita ragazzi andiamo avanti con il primo contributo di eccellenza il Macchia è riuscito a conquistare il titolo di campione d'inverno battendo la Liffe 4 a 0 nel post-gara abbiamo sentito Pierluigi De Bellis allenatore del Macchia e Nino De Tato allenatore della Liffe vediamo meglio di così insomma non si poteva chiedere sì vabbè la finale ancora non ci siamo quindi anche per rispetto degli avversari qui là ce la dobbiamo ancora giocare per quanto riguarda il campionato insomma chiudiamo alla grande insomma anche dalle più rose aspettative insomma non credevo di arrivare a questo alla fine del giro così cerco sempre di trovare qualcosa per creare stimoli e quant'altro perché comunque il campionato ancora non è chiuto i cinque punti sono già un po' un bottino le soddisfazioni sono tante però il campionato non è finito oggi purtroppo lo sapevamo che avevamo delle difficoltà oggi la squadra che abbiamo affrontato è una signora squadra ci ha messo in difficoltà già dai primi minuti e voglio soltanto dire qualcosa a favore dei nostri perché noi siamo venuti qua ad affrontare questa partita con tante defezioni in formazione tra l'altro il nostro portiere sia Cicere e qualcun altro in mezzo al campo veniva da da pochi allenamenti nelle gambe dovuti all'influenza purtroppo ha attanagliato un po' tutti questa settimana è peccato perché qualche gol si poteva evitare qualche altro si poteva anche prendere per bravura del macchio però è giusto giusto così forse qualche golletto da parte nostra ci vogliono stare Roberto Quaranta si possono recuperare in 15 partite 5 punti al Macchia di Sernia che è primo non lo so sinceramente non sto seguendo quest'anno molto il campionato di eccellenza Molisano però so che il Macchia è una squadra una corazzata davvero è una squadra molto forte non so guarda secondo me è difficile veramente difficile recuperarla è difficile Tabita vuoi fare una domanda a qua Roberto per quanto riguarda tu giochi nell'eccellenza abruzzese ho notato che la classifica non è poi così corta perché c'è Francavilla che è a 41 punti Martinsicuro 38 e poi via via le altre quindi alla fine il campionato si riduce a queste due squadre secondo te? Sì diciamo che adesso sono quelle due che si contenderanno secondo me il titolo perché sono quelle squadre che hanno speso di più e comunque sono le squadre più forti insomma del campionato e penso sì loro due queste due squadre siano quelle più titolate Noi puntiamo ai playoff ora stiamo rientrando un po' da una fase di infortuni quindi dobbiamo rimetterci un po' e abbiamo anche una semifinale di Coppa il 4 gennaio col Martinsicuro e speriamo bene almeno con la Coppa ma comunque proviamo a risalire già a partire la prossima contro la Miternina la Miternina in casa sì sì che poi è l'ultima prima delle feste Allora Isernia-Guglionessi senza gol nell'anticipo Tabita La nostra Rosanna Esposito ha intervistato per noi Fabio Di Rienzo allenatore dell'Isernia vediamo Fabio Di Rienzo un pareggio con il Guglionessi nell'ultima del girone di andata insomma in questa questa Isernia in rivoluzione diciamo così che scende in campo con 7 con 7 under la tua opinione su questa partita Beh abbiamo schierato in totale 10 under su 14 io sono molto soddisfatto per quello che abbiamo fatto oggi abbiamo messo il cuore abbiamo lottato abbiamo fatto una buona partita anche al punto di statattico contro una squadra organizzata che gioca a calcio nella fase non possesso siamo stati molto ordinati e peccato per l'occasione del capitano potremmo anche prenderci tre punti oggi Adesso insomma inizierà un nuovo campionato per Isernia nel girone di ritorno come sarà? Spero uguale a quello del giorno di andata noi metteremo il cuore in ogni partita sono davvero soddisfatto di quello che mi stanno dando questi ragazzi sono fantastici si allenano a 2.000 onorano la maglia e la strada è quella giusta continuiamo a lavorare per il bene della città e per il futuro Allora Massimiliano Di Cuglia mi hai detto di aver fatto una di aver stretto una buona amicizia con Filippo Argano al corso di allenatori che sta eseguendo curato da Marco Maestripieri l'amico Marco Maestripieri che è prossimo tra l'altro il corso alla chiusura quindi sarete a breve degli allenatori abilitati UEFA B se non vado errato e quindi per questa amicizia con Filippo Argano sono tifi per il macchia Ti devo essere sincero comunque mi fa piacere per il macchia non l'ho seguita la squadra non so non ho visto nemmeno una partita però sono contento veramente per Filippo a parte tutto anche perché in ogni corso comunque si stringono delle amicizie e sono delle amicizie dove vivi dei momenti pure indensi belli e brutti e comunque con Filippo è nata questa amicizia ci siamo sentiti proprio stamattina e poi condividi cose positive fai del lavoro insieme quindi ho potuto anche tastare il tipo di persona e la professionalità di Filippo e quindi veramente sto simpatizzando per il macchia quest'anno dai 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 l'avevo intuito l'avevo intuito allora Tabita devi sapere Roberto 40 abruzzese di adozione ormai alla carta d'identità non è scritto più Molise stiamo scherzando è scritto Abruzzo però Roberto è possibile che non ti ha voluto una squadra molisana? no 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 assolutamente cioè smentisci si si smentisco tutto ho avuto richieste subito dopo essermi insomma svincolato dal San Salvo ho avuto molte richieste in Molise non posso dire Massimiliano Di Guia lo voleva far giocare nella sciamina anche calcio a 5 vediamo visto che si è fatto si può dire Campodipietra ti ha chiamato? si si anche si Sernia si ti ha chiamato no se lo dici tu si 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 ha avuto parecchi corteggiamenti Termoli anche Termoli ti ha chiamato ti piace spostarti di poco perché credo tra Cupello e San Salvo non so 20 km no meno meno sono 7 km 7 km quindi ormai sei adottivo in Abruzzo a tutti gli effetti comunque Gambatesa Sesto Campano 2 a 3 ho sentito nel post gara Simone Salino allenatore della Gambatesa e Angelo Cecchino allenatore del Sesto Campano li hanno intervistati per noi Stefano Saliola Mister Salino una prima amara solo per quando riguarda il risultato per il gioco il Gambatesa c'è stato eh si il risultato alla fine è quello che conta eh abbiamo preso abbiamo preso gol su su delle disattenzioni però la squadra c'è sempre stata eh siamo passati in vantaggio poi con la mezz'ora non so cosa è successo devo rivederlo con la squadra e eh niente secondo tempo è stato tutto è stata una partita ad un senso quindi meritavamo qualcosina in più eh mister Cecchino partenza colpite a freddo poi c'è stata una grande reazione eh sì sono sono contento per i tre punti perché alla fine li abbiamo meritati però siamo partiti un attimo con con il freno a mano tirato però va dato atto al Gambatesa che è partito meglio di noi ed è riuscito a passare in vantaggio noi non ci siamo disuniti e abbiamo creduto sempre di di poterla pareggiare e poi vincere la partita fino alla fine allora Salino debuttava da allenatore del Gambatesa quindi prima partita per lui purtroppo persa poi alla ripresa delle ostilità il Gambatesa ospiterà il Campobasso 1919 allora prima di vedere la vittoria del Riccia sul campo del Termoli Tabita volevi fare una domanda Massimiliano Di Cuia volevo sapere vedendoti qui sei molto come ti posso dire hai molta fiducia nei tuoi ragazzi nella società e anche nei tifosi che vengono sempre a vedervi durante le partite a cosa è dovuta tutto questo entusiasmo allora la fiducia io penso che sia incondizionata quindi non è che uno ha fiducia e si aspetta qualcosa di ritorno ma per quanto riguarda i ragazzi dovete sapere che quando c'è stato messo davanti questo discorso della Chaminade comunque a parte tutto il discorso societario la prima persona che abbiamo confermato è stata proprio l'allenatore Paolo Pizzuto Paolo Pizzuto e comunque vabbè Gianni non sto qui a dire Paolo chi è sono stato uno dei primi a sapere del vostro ingresso nella Chaminade sì e poi ovviamente abbiamo avuto fiducia del gruppo che già c'era l'anno scorso e che si era salvato l'anno scorso poi piano piano stiamo cercando di inserire nuovi innesti come Michelino come Fabrizio qualche straniero comunque straniero proprio di che spagna sì nel vero senso della parola e anche perché poi la forza di questa squadra è anche il gruppo che c'è ieri sera veniamo da una festa tutti quanti insieme ma veramente lì si vede che c'è c'è qualcosa in più di una squadra perché poi sono i ragazzi che escono insieme la sera escono così fin quando riusciamo a mantenere questa cosa e fin quando io poi dico anche un'altra cosa perché non è facile raggiungere dei risultati con delle situazioni che possono essere belle però poi voglio vedere in serie A se si riesce a mantenere certi equilibri però uno le deve sapere queste cose per il momento ci va bene così ed è bello così perciò abbiamo una fiducia incondizionata verso i ragazzi e verso tutti verso il pubblico verso tutti senti ma si è scherzato molto in questa trasmissione Roberto però adesso seriamente se ti chiamasse Massimiliano il numero di telefono pronto Roberto vieni alla Chaminade lascia l'Abruzzo lascia Cupello San Salvo già lasciato siamo seri adesso perché non può arrivare c'è un amore incondizionato parlando come Massimiliano per il calcio a 11 però non si sa mai lasciamo una porta aperta per qualsiasi cosa nei nostri progetti comunque c'è anche il discorso di allargare la cosa non solo nel calcio a 5 ne sapremo delle belle nel prossimo anche perché ne parlavamo pure prima della trasmissione con Roberto qui si deve iniziare a lavorare con le scuole calcio ma scuole calcio seriamente perché se si inizia a lavorare a campo basso sulle scuole calcio veramente si può impostare un discorso ma proprio per il campo basso stesso ma che stiamo scherzando qua abbiamo comunque io poi voglio fare scusami Gianni ti prendo un po' di tempo non abbiamo troppo tempo volevo solo dire guarda ci lamentiamo dei bacini di utenza ma forse non ci rendiamo conto che in Molise con il campo basso c'è forse uno dei bacini di utenza più grandi che possono starci nelle Marche nell'Abruzzo e noi qua parliamo di 300 mila abitanti nelle Marche nell'Abruzzo si dividono bacini di 50 mila 20 mila 30 mila quindi non riesco come non si riesce a fare calcio in questa regione è qualcosa che va oltre il culturale di Colania non c'è una capacità dirigenziale non ci sono i dirigenti quindi evidentemente è connesso al discorso delle scuole calcio se non c'è il dirigente se c'è il dirigente che pensa che chiamando il cappellacce di turno si vinca il campionato però abbiamo tot soldi l'altra metà verranno dagli introiti dello stadio dei paganti insomma siamo veramente credo 30 anni indietro a livello dirigenziale comunque Termoli Riccia preannunciavo 0 a 2 Tabita ho sentito Giovanni Guglielmi direttore sportivo del Termoli e Vincenzo Spatola centrocampista della Riccia il servizio è di Pino Somma vediamo Miss Giovanni Guglielmi nel ruolo di direttore sportivo questo Termoli che perde con il Riccia però deve guardare al girone di ritorno con positività qualcosina si sta muovendo in chiave mercato sì sicuramente dobbiamo prendere almeno minimo due punte più un centrocampista anche perché sono andate via due punte è andata via un centrocampista è andata via un difensore di fascia a Ugelli che andava a 2.000 all'ora sulla fascia quindi noi dobbiamo prendere un centrocampista e due punte naturalmente adesso non ci siamo riusciti prima di venerdì alle ore 19 che scadeva il tempo per il trasferimento per liberare i giocatori e quindi ci sono tanti giocatori svincolati che sicuramente sono bravi come prima delle 19 di venerdì ma che naturalmente hanno un prezzo più accessibile perché adesso una punta buona si parla di 1.500 e 2.000 euro noi naturalmente è un sacrificio se riusciamo a trovare giocatori di prezzo minore cerchiamo di prenderne due di punte perché abbiamo visto oggi che di punte non ne abbiamo abbiamo sofferto abbiamo mantenuto fino al 36 35 nel secondo tempo poi ci hanno fatto il gol forse era più giusto il pareggio forse ma qualcosa ai punti qualcosa l'hanno guadagnato loro sicuramente sono tre punti fondamentali abbiamo fatto una grossa partita il campo per noi è difficile giocare su questo campo siamo abituati al campo sintetico campo grande abbiamo creato molto quindi credo siano tre punti meritati possiamo dire che tu e Morrone si è stati la spina nel fianco del Termoli la chiave di volta della partita perché al centrocampo avete vinto la partita diciamo che tutta la squadra ha aiutato c'è stato sacrificio da parte di tutti gli esterni d'attacco ci hanno aiutato Morsillo del Zingoro quindi poi si sono visti i frutti perché hanno fatto gol anche lo stesso Omar abbiamo dato un contributo alla squadra tutti non solo i due centrocampisti allora io ero presente alla conferenza stampa di presentazione in agosto della sciaminata di tutta la squadra nella sala consigliare del comune si è accennato ad un discorso concreto Massimiliano su una possibile migrazione vostra presso l'impianto il Palaselvapiana che è tuttora chiuso ecco se uno si ferma un attimo e dice perché è chiuso non si sa se ci sforziamo un attimo perché è chiuso non c'è una risposta una struttura come quella impressionante chiedo scusa poi ti lascio parlare è stata utilizzata per uno degli ultimi eventi tra l'altro nel quale è stata coinvolta anche la nostra redazione sportiva una sfilata delle presentatrici delle varie televisioni molisane poi chiuso quindi non per un evento sportivo ovviamente è stato prestato al presidente Michele Falcione dell'associazione talenti e artisti molisani poi se c'è un evento sportivo lo teniamo chiuso perché mi pare che nel 2016 è stato aperto sei volte tra recite quando c'è una richiesta di strutture qui a Campobasso ma in tutto il Molise non solo a Campobasso che è impressionante e poi teniamo ferme delle strutture che sono sono importanti sono veramente potrebbero essere un punto di ma veramente di arrivo per tante cose tanti progetti potreste migrare nel 2017 guarda Gianni non dipende da noi perché noi abbiamo tutta la volontà di farlo abbiamo vogliamo anche impegnarci per mantenerlo per tenerlo ma quale sarebbe l'impedimento adesso? l'ostacolo? l'impedimento da quello che ne so io che ora si stanno facendo dei lavori di riqualificazione non ho capito bene comunque avevano detto che a gennaio avremmo avuto delle risposte e vediamo che cosa succede come avevano detto due anni fa si sarebbe aperto il parcheggio e oppure i lavori allo stadio che ancora non sono partiti va bene noi aspettiamo però ricordiamoci che a Selvapiana c'è anche uno stadio c'è un parcheggio e c'è anche questa struttura il Pala Selvapiana se le vogliamo utilizzare per non far prendere aria a queste strutture per gli usi sportivi idonei sarebbe anche una buona cosa ci riferiamo sempre all'assessorato allo sport al comune di Campobasso chi vuole capire capisca ma crediamo di essere abbastanza chiari in questi nostri messaggi allora il campo di pietra è tornato al successo lo ha fatto battendo 4 a 0 lo spinete Tabita il nostro Antonio Di Monaco ha intervistato per noi Lorenzo Viglione allenatore del campo di pietra e Giovanni Calabrese allenatore dello spinete vediamo Lorenzo Viglione allenatore e giocatore del campo di pietra è successo importantissimo sullo spinete un 4 a 0 assolutamente netto sicuramente ha pesato l'espulsione per loro di Mercuri ma il campo di pietra anche fino ad ora aveva mostrato buone trame sì sicuramente oggi era importante in un modo o nell'altro raggiungere l'obiettivo che era quello dei tre punti per chiudere l'anno e per comunque dare fiducia per il proseguo del campionato abbiamo interpretato secondo me nel migliore dei modi la partita non ci siamo fatti prendere dall'ansia di fare il risultato abbiamo tenuto bene un buon possesso palla e sfruttando l'occasione che ci è capitata nel primo tempo nell'1 a 0 poi il secondo tempo ovviamente abbiamo incanalato la partita nel verso giusto sicuramente l'espulsione avversaria ci ha favorito poi nel possesso palla nel terreno a palla noi e siamo stati bravi nel chiudere la partita l'espulsione sicuramente ci ha condizionato ma non giustifica comunque che noi succede spesso come prendiamo gol ci sfaldiamo evidentemente ci manca in campo un leader o più leader che ci diano una scossa invece ogni volta che noi prendiamo il gol dopo dieci minuti ne abbiamo subito almeno altre due quindi evidentemente bisogna lavorare molto e lavorare soprattutto su quello che ci manca allora eccoci qui è stata una partita una puntata piena di lapsus questo c'è da dirlo ma non voluti però diciamo è stata una puntata non una partita molto intensa ecco io mi sentivo ancora al Benelli di Pesaro va bene noi ci faremo per qualche minuto di pubblicità restate con noi ci vediamo tra poco non cambiate canale allora eccoci di nuovo a Molise a calci ultima parte di questa ultima trasmissione del 2016 che ha chiuso oltre al girone di andata ripeto anche l'anno solare molto molto intenso e siamo pronti davvero per un nuovo anno 2017 non porterà male il 2017 non siamo superstiziosi da vita porterà bene questo cappellino che ha ma dai sì vediamo qualche azione saliente nel secondo blocco della Moviola cura della direttora Antonia Di Lallo in collaborazione con carburanti e lubrificanti paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campopasso Ripa Limosani carburanti e lubrificanti paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore a Capriate al Volturno dove il Macchia ha vinto sulla Liffe 4 a 0 al ventitresimo del primo tempo c'è questa questo traversone di Sisti giocatore in maglia bianco celeste che è crossa dalla destra vedete mette il pallone dietro c'è un difensore della Liffe esattamente Cecere che interviene in maniera molto scoordinata e per poco non va a causare la più classica delle autoreti è un'azione sicuramente singolare diciottesimo del secondo tempo a Isernia il pareggio del Guglionesi 0 a 0 c'è questo tiro di Cirelli del Guglionesi qui qualcuno aveva visto una deviazione di Lopez andiamo un attimo dietro perché sul tiro del numero 9 in maglia nero verde vedete tiro avvitato prova di intervenire di testa Lopez ma non tocca il pallone andiamo dietro perché si vede chiaramente che il pallone conserva la sua traiettoria vediamo la bella azione di Cirelli che entra in area poi c'è il sinistro avvitato non colpisce Lopez quindi non c'era nessuna deviazione a Termoli al dodicesimo del secondo tempo Termoli che ha perso in casa per mano del Riccia c'è questa buona opportunità per Polzella torniamo un attimo dietro anche qui perché il sinistro di Polzella va ad infrangersi sul palo era bellissimo il tiro di Fabrizio ma va ad infrangersi sul palo e quindi sfuma l'opportunità per il Termoli di andare in rete al trentesimo del primo tempo espulso Mercuri dello Spinete ecco andiamo piano perché Mercuri poi è stato espulso perché ha detto sicuramente qualcosa all'arbitro il signor Matarrese di Termoli ma vi facciamo vedere il fallo che avrebbe voluto Mercuri allora sul pallone in avanti ancora un attimo dietro perché ancora dietro dobbiamo andare naturalmente con le immagini ecco vedete i due giocatori che sono al limite dell'area Mercuri è quello in maglia gialla mentre quello in maglia rosso blu è moffa qui non ci sembra che ci sia un fallo dell'attaccante del campo di pietra quindi poi l'arbitro non ha fischiato Mercuri praticamente lo ha mandato a quel paese l'arbitro giustamente lo ha espulso ma non abbiamo capito e non sappiamo perché ha protestato Mercuri questa azione era regolare trentaseiesimo del secondo del primo tempo a gamba tesa calcio di rigore per il sesto campano c'è questo tiro di Rufo andiamo piano eccolo qui il numero 7 in maglia rossa esce dalla sua area vedete Santoro che con il braccio destro ferma nettamente il pallone braccio largo questo è il rigore tutta la vita giustamente concesso dal signor saluppo di Campobasso poi dagli 11 metri come possiamo vedere anche dalla prosecuzione dell'azione dagli 11 metri va ad insaccare il rigore marziale trentaduesimo del primo tempo esattamente a San Martino c'è il gol della Boisielse vediamo il cross esce a vuoto Figliola il colpo di testa di Cirenei che viene ribattuto andiamo un attimo piano perché questo sarebbe calcio di rigore ed espulsione vedete sulla linea ribatte con il braccio Zuppone ma l'arbitro ha lasciato proseguire il signor Juliano di Termoli perché arriva Zullo e insacca quindi l'arbitro giustamente ha concesso vedete sarebbe rigore arriva Zullo e insacca l'arbitro Juliano ha concesso giustamente la regola del vantaggio andiamo avanti perché si vede anche il gol di Zullo stessa partita 47esimo del primo tempo c'è un errore di Alberta vedete che di testa praticamente va ad ingannare il suo portiere Figliola quindi si sta per intromettere esattamente Cirenei e Alberta lo tira giù vedete lo prende con un braccio vedete per la maglietta e lo tira giù qui c'è il calcio di rigore che ci sembra inequivocabile concesso da Giuliano ed anche l'espulsione di Alberta per fallo da ultimo uomo poi sul calcio di rigore l'errore di Cirenei che vedete tira alto sulla traversa del San Martino a Castel Mauro pareggia il Cerce proprio negli ultimi minuti anzi intorno subito dopo la mezz'ora del secondo tempo vedete il cross di Carpinelli si è trattato poi alla fine di un'autorete il primo tiro viene ribattuto Carpinelli mette ancora in mezzo salta Ruffini che inganna Sedile che non può fare più nulla perché è stato ingannato proprio dal colpo di testa a scavalcare del suo stesso compagno di squadra quindi l'incolpevole Sedile deve soltanto mettersi le mani vedete tra i capelli e quindi incassare il secondo gol che vale il pareggio del Cerce Maggiore decimo del primo tempo a Baranello il gol è stato concesso a Dichiro vedete il tiro di Dichiro ma se andiamo piano andiamo un attimo piano perché sul tiro di Dichiro ci dobbiamo praticamente quasi fermare questo è il tiro ci dobbiamo fermare perché davanti a Dichiro ci sono due giocatori in maglia celeste andiamo avanti qui perché uno dei due è venditti quasi seminascosto che tocca praticamente il pallone con l'anca destra eccolo qui il tiro vedete il pallone che subisce una deviazione che probabilmente inganna anche il portiere del Biccari Silvestre quindi questo gol è da attribuire a venditti anche se è stato occasionale ma la deviazione c'è stata allora il gol è di venditti legittimamente abbiamo visto la traiettoria del pallone adesso tocca a cosa Tabita vediamo infatti l'ultimo toppe flop del 2016 tappa al difensore milanese classe 92 Joel Moreno che scalda il sinistro su punizione poi fa partire un tiro che scavalca la barriera del campo basso e diventa imprendibile per Palumbo Moreno lo scorso anno in Lega Pro all'Albino Leifè è stato portato a Pesaro dal tecnico Sassarini gol a parte è davvero un giocatore interessante flop al portiere della Civitanovese Ferrari che cerca di parare in maniera goffa il tiro di stivaletta della San Nicolò talmente goffa che la palla finisce in rete saranno bravi i ragazzi della Civitanovese a pareggiare quindi a stoppare la corsa degli abruzzesi che scalano al secondo posto dopo questo pareggio comunque brava la Civitanovese a stoppare la corsa del San Nicolò che è passato secondo allora noi vi auguriamo davvero una marea di auguri di buone feste di buon Natale a tutto il nostro vastissimo pubblico io mi sento di ringraziare Roberto Quaranta del Cupello che adesso mette il cappello andiamo con i saluti perché abbiamo un po' fretta grazie Roberto in bocca al lupo Crepi grazie grazie a voi e tanti auguri a tutti i telespettatori e a voi in studio grazie a Massimiliano di Cuia in bocca al lupo alla Chaminade a te Domenico Scarnata Paolo Pizzuto a tutti i componenti della Chaminade sono tutti amici da anni grazie grazie Gianni grazie per per i complimenti e volevo ringraziare tutti volevo ringraziare voi per l'invito e volevo aggiungere un flop a Gianni che non si è messo il cappellino ce l'ha fatto mettere solo a noi e volevo comunque a parte tutto volevo salutare volevo salutare il mio staff di Grafilandia che per io che sto qui c'è qualcuno che mi copre da qualche altra parte e poi gli amici del corso UEFA B e Marco Maestripieri che non ho mai conosciuto una persona con una passione non per il calcio ma per insegnare il calcio di quel livello grazie a tutti un abbraccio a tutti all'ora della Chaminade un saluto anche a Marco Maestripieri auguri di buone feste anche a lui e ovviamente un saluto ai dipendenti di Grafilandia che ti hanno supplito in questo in quest'ora Tabita auguri di buone feste a te e a tutta la famiglia a tutta la tua famiglia grazie Gianni alla fine Massimiliano è riuscito a darti il top finalmente il flop il flop questa sera noi vi auguriamo un buone feste e tanti auguri di buon anno per un anno ricco di gioia e anche un po' frizzante ci vediamo all'anno prossimo buonasera a tutti Molise a Calci in collaborazione con Design, Stile e Comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo uscita a Civitanova del Sagno